Allora, ciao amici, oggi vi voglio parlare della prima stagione di Siamo Serie, la storia sceneggiata, scritta e sceneggiata da Sergio Badino e disegnata da Silvia Ziche. Come sapete adesso nel Topolino, stiamo parlando di Topolino, dal numero 3514, cioè questo qua, è iniziata la seconda stagione, con il numero 3515 c'è il secondo episodio e finirà nel 3517, perché sono, se non sbaglio, sono quattro episodi anche la seconda stagione. Sì, benissimo. Allora, io ho recuperato i Topolini numero 3432 del 1 settembre 2021, 3433 dell'8 settembre 2021, 3434 del 15 settembre 2021 e 3435 del 22 settembre 2021, oltretutto con i 60 anni della Panini, che era appunto nata nel 1961, infatti il primo album dei calciatori ed è il campionato 1960-61, o 61-62 adesso non mi ricordo, ma credo che sia 60-61. Allora, anche questo è diviso in quattro episodi. Allora, il primo episodio è Come dura l'avventura, poi abbiamo nel secondo episodio il Scucci Motore Zione, poi nel terzo episodio, quindi Wack si gira, e una papera sul set, che è l'ultimo episodio. Allora, praticamente, diciamo che questa prima stagione, che poi, come anche spiega nel redazionale, che è nel Topolino 3514, è diciamo di preparativi. Quindi, innanzitutto, ricompare il personaggio di Chiquita, personaggio che io ho recensito come personaggio. La faccio vedere, ecco Chiquita, compare, disegni molto carino di Silvia Ziche, e quindi Paperina, aiutata la Chiquita, si propone come showrunner, lo showrunner è quello che appunto cerca nuove storie per le serie tv. Quindi, questa è molto una storia molto attuale, con tutte le serie tv che attualmente stanno spopolando, sia nella Rai, in Mediaset, in Netflix, in Amazon Prime. E deve far risalire gli ascolti di DuckNet, la casa televisiva, la studio televisiva di Paperon de Paperoni. Tricamente, poi c'è la RockNet che sta spopolando invece con, che è una parodia dell'Amica Geniale, con l'Amica Geniale. L'Amica Geniale, ecco, l'Amica, dice, non ha un'Amica normale, invece Geniale, guarda. RockFlix, ecco, la RockFlix presenta l'Amica Geniale. Operoni e Paperoni, Tirchio com'è, sta producendo invece una lentissima, noiosissima e vecchia serie tv, intitolata tanto ebbi. Ma, tricamente, non fa ascolti. Quindi, Paperina riesce a contattare due sceneggiatori. Allora, un certo Sally Spoiler, una certa, scusate, Sally Spoiler, che è questa qua, amante di film horror e di paura. E un certo spoiler, che poi si rifà, appunto, al famoso spoiler, no, che si ha quando, tricamente, viene raccontato il finale, appunto, ciò che non vorrei fare io con questa serie. Sally Spoiler e un altro sceneggiatore completamente a posto, perché una, tricamente, lavora la notte, questa Sally, e l'altro lavora di giorno, ma molto pigro, molto disorganizzato, l'altro molto disorganizzato, che è Jack Teaser, o Test Teaser, che sarebbe il teaser, è una specie di trailer per quando vengono posti dei, diciamo, più breve e con immagini forti, cioè più che, no, forti, scusate, immagini che suscitano la curiosità dello spettatore, che è questo qua. Tricamente, c'è tutta una serie di vicissitudini, fino ad arrivare al contatto con il regista, che è piano sequenza, che si rifà chiaramente al regista, il grande regista Sergio Leone, che è questo qui, vedete Sergio Leone. Tricamente, questo regista poi si è fissato con i piani sequenza, vengono, diciamo, presi due attori da strapazzo, etnicamente, uno dei quali è, adesso ve lo faccio vedere, è questo che adesso ti raccomando, i miei attori, Felipe Flanella, ecco, Felipe Flanella, che tricamente è un attore proprio un cane, che tricamente ha detto, con questo sorriso stampato, che viene usata anche una sagoma. E poi viene usata anche un'altra attrice, musa del regista Lazio Pretenziosi, che è Frida Feuer, quindi due improbabili attori. Che cosa succede? Quindi si va avanti, tricamente i tempi stringono per il gran galà della serie tv e Paperina disperata e cicchita perché non riescono, sia perché appunto i due sceneggiatori non vogliono lavorare insieme e sono alla fine incompetenti, sia perché piano sequenza il regista, che tricamente appunto è il sossia in brutta copia di il grande Sergio Leone, del maestro, infatti vuole essere chiamato maestro, non riesce a porre una ripresa che sia, sia per appunto i due attori, come si chiamano, Flanella e la Frida Feuer, che sono due appunto improponibili attori, non si va avanti e addirittura vengono citati, perché tricamente i due sceneggiatori avevano copiato delle loro sceneggiature da una precedente majori, che è dall'avvocato Arringa, infatti finisce il secondo episodio che arriva questo avvocato che si chiama Red Arringa, che è tutto il nome, Red Arringa, che è questo qua, questo che viene tricamente, vengono citati e quindi le cose si mettono male per Paperina, perché è shikita, perché non riescono a far partire questa serie che poi si chiama La Serie, che per ecco non vi ho detto, viene chiamata, adesso ve lo dirò, perché poi alla fine è anche carino, cioè nel senso che a me è piaciuto, nel senso che hanno detto che la seconda stagione, ma no, ecco ma forse qui si trova, scusate, eh, no, 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 propone, ecco un posto a Paperopoli, un posto a Paperopoli, che è un posto, che poeticamente la parola è di un posto al sole, serie famosa, serie tv, soppopera di Rai 3, prodotta a Napoli. O, arriviamo al terzo episodio, che nel Topolino 3433, oltretutto poi in questo numero inizia anche, ma io non li ho tutti, inizia anche il centunesimo canto, storia di Sisti e di Pene, poi c'è appunto, qui c'è Ductopia, ne poi ne, non voglio leggere anche questa qui, però non so se ho tutti i numeri, perché, ripeto, io ho recuperato questi per questa prima stagione, Topolino era già una fase, scusate, qui una presente, qui la carta ancora si apriva male, sentite il rumore, era ancora carta, purtroppo non aveva questo rumore, e poi iniziarono tutte queste serie che uno si perdeva. O, arriviamo al terzo episodio con Waxigira, e qui, delicamente, in questo terzo episodio, in questo terzo episodio, in pratica, c'è anche la presenza di Paperoga, eh sì, di Paperoga, io ho molto altro, mi viene di dire Paperoga, ma è Paperoga, etnicamente, dove si scopre che per tenere buono questo avvocato, Paperina scopre che questo avvocato Red Arringa è un fan di tanto ebbi, è un attore dilettante, quindi lo fa partecipare addirittura, lo fa partecipare per fare in modo di, tra virgolette, svegliare e mettere sull'allarme i due attorucoli, Freezer e Flanella. Tricamente, piano sequenza, quindi fugge dal set, lo abbandona, e quindi, Tricamente, è la stessa Paperina che prende in mano le redini della, come la regia. e, che succede? Tricamente si va avanti, addirittura viene, c'è Paperoga che fa dei danni, Tricamente distrugge il set, e quindi Tricamente, però questo permette anche di poi di poter girare degli esterni, e si arriva così all'ultimo episodio, che però non vi ho a svelare, Tricamente, quindi si riuscirà a girare, che Tricamente riceveranno un premio. Quali premio? Dovete scoprirlo voi, ma soprattutto, come tutte le serie tv che si rispettano, come tutte le serie tv che si rispettano, la seconda stagione, che appunto, come ho detto, set preparativa, e quindi alla fine è un'attesa, finisce proprio con, è la fine, con un punto interrogativo, questo ve lo posso far vedere, adesso se ritrovo la pagina precisa, ve lo faccio vedere, ecco qui, una papera sul set, numero 77, e vedete che finisce con questo fine con il punto interrogativo, e infatti Possito dovrà tornare, aspettare esattamente quanto, una, due anni, eh, sì, due anni, quasi due anni, perché siamo a passo, questo è uscito il 29 marzo, il numero 2514, per avere, qui avete, vedete che differenza, per avere, ecco la, quindi la copertina, qui c'era sempre Paperina e Paperone, qui c'è sempre Paperina e Paperone, questa era stata coperta molto criticata per troppe strille, mi invece era piaciuta, dove inizia la seconda stagione, che adesso però io devo finire di leggere, quindi aspetterò gli altri due albi, uno tanto esce mercoledì, e l'altro il, quindi mercoledì 12, l'altro il 19, e poi ricensirò anche la seconda stagione, e va bene, quindi a me è piaciuta, è carina più che altro, è carina l'iniziativa che è stata fatta, che diciamo, segue molto l'andamento adesso di queste serie tv, io non è che le amo tutte, le serie tv, preferisco o il classico telefilm o il film, però questa adesso è l'andamento, e capisco anche, qui faccio un inciso, il discorso che faceva nell'intervista che Francesco di Pop Culture ha fatto a Alex Bertani, sul fatto appunto, come ho detto anche un'altra volta, sul fatto che adesso appunto vanno le serie, diciamo le storie doppie, sono sempre più rare, vengono inserite le storie singole, se pensiamo ad esempio l'ultimo topolino, questo è il 3515, se pensiamo, tranne ecco la storia di una pagina sola, sono tutte tricamente storie, considerando che Cornelius, quello dello stato senza mappa, sono due episodi nello stesso album, ma gli altri sono tutte serie, perché questo è l'andamento che sta andando, e quindi alla fine ha spiegato anche bene il motivo, perché segue quella che, diciamo, è l'andamento da moda del momento appunto di queste serie tv, va bene, niente, quindi siamo serie, prima stagione, topolino ripeto 3432, primo settembre 2021, 3433, 8 settembre 2021, 3434, 15 settembre 2021, con questo io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon lunedì di Pasqua, non so se andrete in gita, io qui il tempo sarebbe buono qui a Perugia, ma staremo a vedere, io forse andrò a pranzo fuori, non lo so, va bene, a parte questo, un abbraccio e grazie sempre a tutti voi, ciao!